Continua la marcia dell'LPR Volley Piacenza in Coppacev. Nell'andata degli ottavi di finale, la squadra di Alberto Giuliani ha battuto la Voivodina Seme di Novi Sad con il punteggio secco di 3-0 al termine di un match condotto con autorità. Priva dell'infortunato Marshall, la squadra bianco-rossa è partita alla grande, un inizio pressoché perfetto che ha indirizzato subito il match nei giusti binari. Primi due parziali senza storia, terzo set combattuto, ma un 3-0 che lascia ben sperare per il passaggio del turno. Alletti supera a muro, Clevenot mattatore in attacco seguito a ruota da Parodi, cercatissimo anche in ricezione dai serbi. Ottima anche la prova del centrale bulgaro Josifov. Gara di ritorno che si giocherà mercoledì prossimo, 15 febbraio, in terra serba. Basterà conquistare due set per approdare ai quarti, dove l'avversaria potrebbe essere la temibile Trento.